Sono Umberto Frusciano e sono il pro player dell'Atalanta eSports. Ho 26 anni e i miei due più grandi hobby sono l'eSports e il calcio. Dall'unione di questi due è nata la passione per il football. Il football è il videogioco calcistico sviluppato da Konami. Ci gioco fin da quando ero piccolo grazie a mio padre. Prevalentemente ho sempre giocato da console che è la piattaforma su cui preferisco giocarci. Dalle partite giocate con mio padre a casa sono passato a qualificarmi a finali prima nazionali poi europee per finire mondiali che sono stati i miei eventi più importanti giocati nella mia carriera. Il mio primo evento europeo è stato giocato a Milano nel 2018 da Regional Finals ed è stata una grande emozione trattandosi del mio primo evento europeo contro giocatori stranieri. Ricordo l'emozione di quell'evento e di quelle partite come se fosse oggi. L'ansia della prepartita però allo stesso tempo la gioia di giocare a un livello così alto sul football. Nel 2020 ho raggiunto un traguardo importantissimo forse il migliore che è quello di qualificarmi per le finali mondiali di football 2020. La finale mondiale purtroppo causa Covid l'ho dovuta giocare in remoto però l'emozione resta rimarrà per sempre per me indimenticabile. Grazie! 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 Grazie a tutti.